la puntata prima delle mie vacanze estive, per cui se non mi vedete più non preoccupatevi, ma tanto lo so che non ve ne frega un cacchio, e ora vediamo cosa succede, mi sa che forse è oggi che c'è il compleanno di qualcuno, sì, c'è il suo compleanno, no, due compleanni in uno, wow, ah, compiono insieme gli anni, fantastico, che bello, invecchiano insieme, lo sai che è successo, eh, dai, sarà proprio un bel compleanno questo, eh, e lo devo mandare anche al lavoro, lamentati con il padrone di casa, non te ne frega niente, anche se sono le 5 del mattino, c'è una cosa strana qua, c'è il taccuino, vabbè, taccuino è di pesca, un momento, vabbè, ecco, si inizia bene la gioca, ma scusa, sei venuto qui per riparare, vabbè, come se è la cance, qua, vabbè, vabbè, no, vai a farti una doccia, che la doccia, lascia stare la chitarra, quello praticamente è lì seduto per i cacchi suoi, ah finalmente ha deciso di riparare beh certo che questo cesso è proprio un cesso è un cesso non è più un gabinetto è un cesso eh vabbè prendi gli avanzi se intanto fa il colazione ecco fai tu una bella cosa lucida la perfezione tanto qua se non ci pensi tu non ci penserà mai nessuno non dovrei mangiare allora oggi è il compleanno di entrambi allora lei potrebbe fare una bella cosa che frana mamma mia eh no mi sembra che sa che è troppo tardi che qua loro devono preparare la torta di compleanno ma ci vuole tempo prima di farlo stanno lì a raccontarsela in bar non lo so andate qua oh beh finalmente hanno deciso di mettersi davanti alla tv invece di stare in bagno che non si capisce perché dovessero stare lì lì c'è una schifezza che è una vera schifezza mamma mia ma perché butta via vai a buttare via quella schifezza dolorante eh sì meglio che lasci riposare quella ciccia traballante adesso tra poco dovrà andare a lavorare vediamo lo seguiremo lei dovrà lavorare anche lei e speriamo di raggiungere a più presto la fatidica di oltre 200 mila simole così si prendono una bella villa perché quella è la mia visione però speriamo di una casa vera e propria questa latrina questa latrina che ormai sono dentro da tanto tanto tempo troppo tempo passato qua dentro l'abbiamo 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 è una rimplice picoya shapea è guosif we know Fasanoi valpim due volte buona con flebo daba wamba voi yambalala e Fabi frenoi e bani isca wange ah puoi lavorare anche da casa lo smart working famoso smart working eccolo qui ah devo avere il computer però io glielo torto mannaggia la pupazza allora mettiamoglielo ma se metti di questo è lì vai qua questo chi è? chi è che parla? inayamashito il nome è proprio italianissimo adesso un'altra volta guarda video buffi su sim tv per 2 euro guarda video buffi su sim tv adesso guarda si sapere le lascia sempre lì in casa ho saperlo prima guarda ancora internet a parte che dovrebbe andare 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 ecco bravo con una scoreggio e via si risolve tutto ah deve stare un'altra ora va bene allora facciamo una cosa, cominciamo a preparare, vai a preparare uh-huh, wadida ah, yeah un pochino vediamo un po' cosa riesce a preparare un pochino un pochino un pochino un pochino ah, shiver allora vediamo cosa fa lei ora ora su sta torta qua aggiungi candeline un pochino un pochino un pochino eh 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 beh nim oh neve ma forse non ci dovresti soffiare su soffia sulle candeline a lui non gliene frega proprio niente è passata d'età adesso toccherebbe a lui vecchiaia saggezza miseria vecchiaia saggezza aggiungi delle candeline così festeggiamo con una sola torta due compleanni soffia sulle candeline e via bravo è passato d'età anche lui così abbiamo risparmiato sulla torta adesso prendere beh adesso visto che si può anche mangiare la torta magari e di fatti anche qua sono adulti tutte e due e tu ti dovresti ricordarti che hai un impegno di lavoro qua vai no reculisci un'altra volta dai tanto ci pensa lui ci deve pensare lui è un impegno di lavoro è un impegno di lavoro Sì, non c'è nessuno, non c'è nessuno, non c'è nessuno. Bene, 1120 si muove, bene, so dove era fatto, adesso facciamo una cosa, con la torta, allora, riponi, che telefono? Sei Marco, l'unico trader, sei proprio tu, mi hai rallegrato la giornata, ciao. Va bene, che bello. Senti, mettiamo, io ho intenzione di mettere a posto un po' sta roba, perché... Sì, potrei metterli nell'inventario, però non su, che è già pieno, neanche su, che è già pieno, e niente, sono lì. Qui, se la raccontano... Fai una cosa, pulisci un po'. Pensavo che oggi fosse anche la sua giornata di lavoro, anche di Marco, invece sarà la giornata dopo. e va bene così. Vediamo se lui... social network... Può fare qualcosa di più anche lui. Gorsoi, Nimenu Friba, Kanumi, Merkle Zero? E ciò, la diciottosissà. Mamma mamma. Iasmes, chore. Oh, Yadavu. Oh, benvenuti. Oh, benvenuti. Ah, benvenuti. Yathruya Rolshva. Quexanas. Vibalo Noiem. Benviishaldo. Oh, benvenuti. Benvenuti. Con se fai un po'? Oh, benvenuti. Mi sotta, Mojibij. Gormerishbrihe. Accruz. Concibolaba, Nebluswizo. Vixenia. Zarkoony Swarstbn. Yakaloudunba. Brugii Payun. Wixenia. Zarkoony Swarstbn. e pian piano ma già so, non è possibile vediamo se facendo così riesce ad avere un po' più di puntilità Abinu Smishi Brugi Kip Luna Yakalau Doonba Brugi Peiun Gorsoi Nimenu Friwa Snibara Watanini Lumaina Exin hai perso 163 follow ahia non è andata proprio bene ah lui se ne va a dormire già come le galline pazz vabbè mettiti almeno in pigiama non lo so guarda fai una cosa dormi hai rotto le balle a vederti così lei cosa fa? ah fa la troll nei forum che grasse risate a fare la troll brava brava stai attento però lui esiste non si capisce perché però mi sa che ancora no non è tempo per dormire per lei può ancora stare un po' a cazzeggiare con il computer che brutto computer però e si riga allegramente che bello ah ah è stampa anche lei dai mandiamola a dormire dormi no lascia stare la spazzatura porti fuori domani con questo è tutto spero che la puntata vi sia piaciuta mettete like commentate condividete e ricordatevi che non ci sarò per tutto per almeno la prima metà di agosto sono in ferie e ci vediamo dopo per tutto il resto alla prossima ciao ciao